Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati all'agendina. L'agendina non può che parlare di politica, di questi tempi, di elettorale, di politica, con un'elezione a cui abbiamo assistito tutti, con i risultati che conosciamo tutti e un ballottaggio alle porte che si profila come molto interessante. Per parlarne abbiamo Maria Bruna Pustetto, opinionista, editorialista, consulente politica, marketing elettorale, donna di colore. Donna di colore, esatto, di colore nel senso che mi occupo di colore essenzialmente. Ma sai, io ammetto tutto fuorché mi si dica politologa. Non l'ho detto, mi pare. Bene, e ti ringrazio, eternamente grata. Siccome qualcuno me l'ha detto, vada e retrosata. Il colore a cui fa riferimento Maria Bruna è il comportamento soprattutto, è l'atteggiamento e la cultura che accompagna il fenomeno politico. Allora, intanto cosa pensi di queste elezioni che abbiamo appena scavallato? Ma queste elezioni secondo me sono state interessanti perché, contrariamente a quello che si pensava, che avrebbero avuto l'influenza sul governo, cose che certamente avranno sugli equilibri nazionali per quanto riguarda... Lo si pensava anche del Molise. Esatto, esatto. Però questi sono equilibri non che andranno ad incidere sulla formazione del governo, andranno ad incidere all'interno della coalizione, quindi è ovvio. Insomma, quindi è chiaro che questo garantisce a Salvini un premierato che Berlusconi a questo momento ha un po' di difficoltà certamente a rivendicare. Così non credo che possano avere altro ruolo rispetto alla formazione del governo, poi c'è Mattarella che decide questo, quindi saremmo folli se noi pensassimo che questo è un altro oaio. Tra l'altro ci saranno le elezioni a maggio in Trentino Aldo Adige e Val d'Aosta, esatto. Minori peraltro. Però se il Molise valeva quanto l'oaio, anche il comune di Grottaferrata, voglio dire, con tutto il rispetto, incide sulla formazione del governo italiano. Ma non si può continuare a rimandare, a aspettare lezioni, le sue lezioni. Tre elementi c'erano sul tavolo. Come dire, la gerarchia all'interno del centro-destra. Certo. E questa l'abbiamo sistemata. Il destino, sì, l'abbiamo, mi pare, chiara. Assolutamente. No, un passaggio su Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia credo si aspettasse molto di più di qualche... Ma non c'è dubbio. Se c'è qualcuno, secondo me, che deve mangiarsi le mani è proprio la Giorgia Meloni. La Giorgia Meloni che, peraltro, aveva stretto degli accordi strettissimi. Lei è molto affascinata da... Lei a un certo momento ha capito che Salvini era l'uomo giusto. E ha fatto tutta una serie di manovre con Salvini, contro, tra virgolette, contro Berlusconi, proprio per assumere un premierato. Lei, purtroppo, si è fatta pagocitare. Salvini, è chiaro che rispetto a lei ha una supremazia. Per diversi motivi. Lei è una donna intelligentissima. Io ci ho avuto a che fare anche professionalmente. Ed è una donna furba, intelligente, lavoratrice come pochi al mondo. Secondo me uno dei suoi limiti, adesso non voglio sembrare la solita, femminista, eccetera, è anche il fatto di essere una donna. Di essere una donna romana l'ha penalizzata, certamente. Non è stato forse il fatto che l'offerta politica tra Lega e Fratelli d'Italia era più o meno equivalente e quindi siamo andati sul pesce grosso, insomma. Lei si è appiattita troppo sulla Lega, pensando di avere un suo risultato. Questo è stato proprio un errore di strategia che ha commesso e che ha pagato. E che ha pagato, evidentemente, anche qui in Regione. Secondo elemento di discussione era il destino, il futuro, il passato recente del Partito Democratico. Il Partito Democratico è arrivato ai minimi storici, ai minimi termini, anche dal punto di vista della sua strutturazione ideologica, che si è costruita in una storia lunga, cioè dire buttiamo a mare il Partito Democratico. È impossibile in un Paese che vuole essere democratico e quindi tener conto anche di quelle che sono le opposizioni. Il Partito Democratico vuoi per Renzi, vuoi che una parte ce l'ha messa anche lui, che voleva cambiare, voleva modernizzare il Partito Democratico, ma lo voleva modernizzare in un'ottica centrista, quando invece c'è ancora una base, lui forse questo l'ha sottovalutato, c'è una base che è ancora fortemente ideologica, che ancora c'è il famoso zoccolo duro della sinistra, ancora c'è. Quindi questo non poteva se non andare contro a una modernizzazione, a una liberalizzazione, a questa visione renziana, personalmente a me Renzi è antipaticissimo, che lui ha proposto in maniera, se lui lo faceva forse in maniera più graduale, avrebbe anche ottenuto dei risultati, l'ha imposta in maniera un po' arrogante, un po'... Personalizzata in senso negativo forse, troppo personalizzata. Lui ha personalizzato, ecco, in tempo di personalizzazione della politica, lui ha esagerato. Cioè lui si è posto, la semplice definizione che lui si è autodata, questa di rottamatore, ha compreso non solo il rottamatore, come avrebbe dovuto essere, delle minoranze, ma lui è dell'opposizione. Ma è stato un rottamatore di se stesso, quindi c'è un autolesionismo, mi pare. Restiamo sempre su questi rottamatori. Deborah Seracchiani, un fenomeno mediatico, poi un fenomeno amministrativo, poi un fenomeno politico. Adesso mi pare che sia tornato ad essere un fenomeno mediatico, ma in senso negativo. Ultimamente ha avuto qualche uscita un po' strana, tipo provare a dire che se fosse rimasta il PD si sarebbe salvato in qualche modo. Io sono assolutamente convinta che se lei fosse rimasta, chiunque avrebbe potuto sconfiggerla. Perché talmente grande era il malumore in questa regione, bisogna muoversi su questa regione e sul territorio. Io mi sono mossa molto, ovviamente, in questo periodo anche di campagna elettorale, e quindi ho toccato con mano la disaffezione e anche la contrarietà. Nei confronti soprattutto, guarda un po', lo sappiamo, lo abbiamo detto, se ne legge, ne abbiamo discusso, eccetera, la riforma sanitaria è stata la sua caporetto, perché la riforma sanitaria è una cosa sensibile, un argomento sensibile, quindi che tocca direttamente le persone. Che cosa ha prodotto questa riforma sanitaria? Ha prodotto che qualsiasi cosa, qualsiasi normale contrattempo che è fisiologico all'interno delle strutture sanitarie o all'interno della sanità nel suo complesso, qualsiasi contrattempo, dico proprio contrattempo, quindi come cosa banale, sia stata attribuita alla riforma sanitaria. E bastava frequentare gli ospedali, i pronti soccorso, eccetera, per vedere la gente normale, proprio la gente che noi consideriamo così, che non vediamo di solito, non ideologicamente targata, esatto, proprio essere inferocita. Proprio parlo di inferocita, perché appunto la sanità non si può toccare senza, e qui credo che ci sia stata, senza entrare nel merito della riforma sanitaria, dei contenuti della riforma sanitaria, credo ci sia stato anche, qui parlo prodomo mio, parlo come mia professione, un errore anche di comunicazione. Non sia stata spiegata, non sia stata illustrata in maniera, è stata fatta subito un oggetto politico, quindi è stata spiegata in termini politici e non in termini pratici. Quindi l'opinione pubblica l'ha vissuta molto male. Hai introdotto una riflessione molto interessante, questa storia dei contrattempi, della normalità, della difficoltà di gestire un fenomeno come la salute generale. Il centrodestra come si comporterà davanti a questi contrattempi che non spariscono oggi perché è stata votata la Lega? No, c'è dubbio, ma mi pare che Fedriga sia stato abbastanza chiaro, Fedriga nel suo discorso di insediamento, cioè post elezione, ha subito detto che lui metterà mano alla riforma sanitaria con la debita prudenza, cioè non dice, non si può smantellare ovviamente una cosa di questo genere, ma gradualmente bisognerà rivedere. Ma fino a quando continueremo, continueranno a dare la colpa alla riforma Seracchiani, o Telesca Seracchiani? Credo, credo che la cosa... Per molto tempo, fino alla prossima legislatura. Fino alla prossima legislatura. Certo, anche perché questa legislatura non riuscirà a rifare completamente, a rimettere mano completamente. È talmente intricata questo sistema che è stato messo in piedi, che proprio snodarlo risulterà estremamente difficile, quindi richiederà dei tempi molto lunghi. Ecco, siamo entrati nella... Poi continuiamo sul PD. Siamo entrati... Queste sono delle chiose che mi vengono così a digetto. Siamo entrati nella fase della luna di miele con Fedriga. E in questa luna di miele, si perdona tutto ovviamente, Fedriga ha dato un'interpretazione dei visitors abbastanza strana. A parte che secondo me i visitors avevano già fatto il loro tempo, per cui era una, come dire... Già visto. Un termine... Esatto, déjà vu, sicuramente. Però lui ha detto, ma che visitors? È tutta gente che è venuta qui ad aiutarci, sono ospiti nostri e fanno il nostro bene. È, come dire, una rivoluzione copernicana, nel suo piccolo, in sedicesimo copernicana, del concetto di visitor che aveva comunque segnato un'altra elezione. Certo, a suo tempo. Cosa dici? Tu che sei nella comunicazione. Sì, beh, i visitors devono essere, c'è un certo momento, cioè il... Comunque, in un sistema fortemente personalizzato, in cui, se tu chiedi a qualcuno per chi ha votato, ti risponde per Salvini, per Berlusconi, anche a lezioni comunali. Cioè, non ti dice ho votato Martino, ti dice ho votato il PD, ho votato Renzi, oppure ho votato Martino, ho votato... e che so io, ho votato... e qui a Udine, se vai a chiedere a uno che ha votato Forza Italia per chi ha votato, ti risponde che ha votato Berlusconi. Cioè, c'è una forte personalizzazione, quindi è inevitabile che i politici locali abbiano bisogno di questi supporti dall'esterno per personalizzare il... L'insostenibile leggerezza del visitor. Esatto. Perfetto. Allora, ancora una battuta sul Partito Democratico, una battuta su Sergio Bolzonello. Poteva fare di più? Ma, io credo che a un certo momento... Beh, lui è partito in condizioni pessime nelle quali lui ovviamente si rendeva perfettamente conto, quindi lui... C'erano già sondaggi molto credibili che lo davano già con una grosso margine di sconfitta. Credo che il tentativo di smarcarsi fosse così palese... Esatto. Esatto. Questo qua, secondo me, è stato un... Non so, gli si è rivolto un po' contro. Cioè, non... Tu non puoi stare cinque anni e essere vicepresidente e poi dire ma no, io vorrei tornare indietro sulle UTI, vorrei tornare indietro sulla riforma sanitaria. No, non sei più credibile. Cioè, torni... Allora dimmi, sei sempre rimasto il liberale che eri 40 anni fa quando io lo conoscevo qui proprio in Via del Gelso dove c'era il circolo in audio e lui era un grande attivista ma... E allora non sei comunista o comunista, scusa, uso questo termine, non sei del Partito Democratico, comunista non è sicuro. Comunista non è sicuro. Ecco, ma allora andando contro esattamente e quindi si è alienato anche quella parte più di sinistra che avrebbe potuto invece in qualche modo e che si è sparpagliata, si è polverizzata in questi altri piccoli partiti che hanno... che sono apparsi, che hanno appoggiato, che lo hanno appoggiato... che dureranno lo spazio di un mattino... che hanno operato prodomo loro. Cioè io trovo geniale l'idea di Onsel di farsi per esempio a un partito che gli ha garantito un seggio in Consiglio regionale. Perché altrimenti non sarebbe... E' stato molto bravo Onsel a trovare l'Open FVG con il marchio sinistra. Assolutamente. Lui si è mosso su questa cosa onore al merito se l'ha pensato a lui o chi l'ha pensato a questa cosa. Guardiamo ancora l'ultimo elemento, l'ultimo macroelemento ed è il crollo del Movimento 5 Stelle. Brevissimamente cosa è stato e un po' più a lungo cosa sarà del Movimento 5 Stelle? Beh, il Movimento 5 Stelle secondo me ha rivelato prima in Molise e poi in Friuli Venezia Giulia la sua inconsistenza. Mi spiego. Contrariamente a Berlusconi o contrariamente a Salvini che hanno fatto un partito personale il primo c'era il partito di Grillo quindi voto Grillo. Di Maio non ha nessuna caratteristica per essere... non ha il carisma non ha le caratteristiche politiche la conoscenza le competenze eccetera per essere vissuto anche estremamente giovane totalmente inesperto per essere vissuto e non è carismatico per essere vissuto come il referente io voto Di Maio questo non te lo dice nessuno cioè ancora ad oggi ti dicono io voto Grillo ho votato Grillo ma Grillo è... ho capito ma veniamo a noi è sparito un po' qualche errore ma qualche errore anche macroscopico è stato fatto per esempio il candidato presidente era uno sconosciuto totalmente ma sì ma dalle altre parti d'Italia vedi è stato fatto la stessa operazione anche nel sud Italia sono stati messi degli illustri sconosciuti e sono stati eletti però questo illustri sconosciuto ha trovato la fronda interna che covava sia per la presidenza sia per altre situazioni certamente ma anche per il comune di Udine esattamente ha pagato le conseguenze di questo e come per quanto riguarda il futuro dei grillini la mia opinione è che il siano si polverizzeranno cioè è difficile che il risultato del 4 marzo che era un risultato di disaffezione dal sistema eccetera come sempre quando si parla con partiti anti-sistema sono partiti che poi devono rientrare da qualche parte secondo te sono già rientrati nel sistema passando attraverso la Lega? è un tentativo che stanno facendo non è ancora riuscito è un tentativo adesso bisogna vedere che cosa succederà ovviamente a livello nazionale dove ci sarà questo accordo se ci sarà un accordo di qualche genere loro hanno bisogno certamente di qualcuno che li certifichi come un partito in grado di governare per adesso non sono pervenute dei loro segnali pervenuti dei segnali o delle indicazioni che dicano sì questo è un partito in grado di prendere il governo benissimo Udine Udine la tua città sei assolutamente ferrata in materia che voto è stato quello di Udine ma il voto di Udine è stato è stato come io immaginavo per il resto devo dire è stato un voto equilibrato tutto sommato cioè non c'è questa grande differenza fra Fontanini e Martínez diciamo che il centro-destra per la prima volta si trova a un passo certo beh sai il balottaggio può succedere di tutto questo è vero io ho visto delle situazioni dove c'erano uno scarto del 15% fra il primo e il secondo e vincere il secondo quindi siamo cautissimi e non facciamo la follia questo è un invito che faccio ai candidati ai candidati che andranno al balottaggio non pensate l'errore che fanno è quello di perdere tempo in trattative invece di cominciare fare le trattative ma ricominciare una campagna elettorale perché si riparte da zero questo non lo capiscono pensano che sia più importante prendere i voti di Casa Pauno piuttosto che di Bertossi piuttosto eccetera che non c'è questo automatismo questo è un automatismo fittizio che non tiene conto poi di un altro fatto che io sono stupita è il fatto che non se ne rende conto che la gente al secondo turno in Italia non è ancora abituata ad andare a votare quindi ci sarà un crollo già c'è stato un crollo vertiginoso della partecipazione al voto cioè se andiamo su percentuali da 30% quindi bisogna allora sulla percentuale del 30% tutto si gioca tutto è aperto tutto è possibile quindi quindi il compito dei due candidati sindaci che vanno a valutaggio è quello proprio di lavorare e rifare una campagna elettorale ricominciare da zero dando quello che io ho chiamato dando un sogno anche a questi cittadini ecco questa è una cosa che tenevo per il finale poi vediamo poi vediamo il finale invece volevo chiederti se ne hai voglia di dirmi chi ti ha deluso di più qual è stato il voto più sorprendente da un certo punto di vista anche in senso positivo non soltanto con delusione certo il voto per Fontanini era dato per scontato visto il traino della Lega quindi questo era inevitabile forse il voto di Bertossi è quello che mi ha stupito maggiormente però fino a un certo punto devo dire perché c'è una tradizione non solo italiana ma internazionale nel resto del mondo per cui one man party cosiddetto l'uomo solo l'uomo solo il comando l'uomo partito l'uomo partito non funziona prova a pensare all'elezione faccio un esempio adesso sembra assolutamente fuori religie però però quando si era candidato nelle elezioni degli Stati Uniti che aveva investito più di qualsiasi altro rospero si era candidato aveva fatto degli investimenti pazzeschi sulla sua campagna elettorale si è fermato al 10% però si è anche morto poi si è anche morto esatto allora la cosa nel finale l'ho lasciata perché è la cosa più simpatica della vicenda è quella di questa tua teoria che va bene possiamo fare sondaggi possiamo investire però all'elettore al cittadino a chi sceglie di darti la sua fiducia bisogna regalare un sogno questo è quello che è scritto recentemente assolutamente se lo spieghi in finale assolutamente ma quello che è mancato anche in questa campagna elettorale quando io a fianco dei candidati sindaci sempre gli dico gli consiglio di uscire dalla normale amministrazione e di dare un'idea un qualcosa un colpo d'ala un qualcosa che vada sopra le righe che giustifichi il ecco voglio qualcosa di straordinario per la mia città cioè questo l'ha fatto per esempio Sala Milano con l'Expo l'ha fatto Pisapia l'hanno fatto e parlo di sindaci di sinistra cioè offrire qualcosa ma anche nelle altre città cioè qualcosa offrire qualche qualcosa di straordinario che è un sogno che poi si possa concretizzare sarà tutto da verificare ma almeno dimostra che quel candidato ha voluto mettere all'interno del suo programma un qualcosa che dia alla città una spinta certo verso qualcosa di completamente nuovo di innovativo continuiamo a parlare di buche continuiamo a parlare di cassonetti delle mondizie di queste cose qua no non è questa la strada per fare per vendere una città una città si vende con anche i candidati hanno un'anima no c'è dubbio guai guai altrimenti ce l'hanno un'anima ma ce l'hanno soprattutto gli elettori sicuramente e tu devi fare i conti tu candidato la tua anima la metti al servizio degli elettori altrimenti molto bene molto bene Maria Bruna grazie di essere venuta qua grazie delle tue sempre intelligenti intuizioni spero che ci vedremo per il ballottaggio magari qualche tuo commento sarà sicuramente prezioso grazie a tutti voi alla prossima grazie grazie a tutti